Sai come si chiama questo dipinto e chi l'ha dipinto? Il dipinto si chiama Willier, atto 1, scena 1, noto anche come l'addio di Cordelia. È un dipinto a olio del 1898, del pittore americano Erwin Austin Abbey, ed è nella collezione del Metropolitan Museum of Art, New York. Il poliedrico Erwin Austin Abbey, illustratore, pittore e muralista nato a Philadelphia, è meglio conosciuto per le sue immagini storiche, in particolare i soggetti arturiani e shakespeariani. Membro popolare dei circoli artistici espatriati, Abbey visitò per la prima volta l'Inghilterra nel 1878 e vi si stabilì definitivamente nel 1882. In questa scena drammatica del Willier, Cordelia, l'eroina della tragedia di Shakespeare, è al centro della composizione. Essendo stata appena rinnegata dal padre nella scena iniziale della commedia.